Salerno in occasione dell'incontro di calcio Salernitana Empoli in programma sabato 28 ottobre alle 15 allo Stadio Arecchi dalle 12 e 30 sino al completo deflusso dei tifosi istituito il divieto di transito nelle seguenti arterie sottopasso di fronte all'ospedale San Leonardo Viale Pastore dal sottopasso sino a via Venner via degli uffici finanziari all'incrocio con via Salvatore Allende via De Carrari via Prudenza all'incrocio con via Venner Viale Antonio Palumbo lato Multisalad Space a Benevento invece in occasione dell'incontro di calcio Benevento Lazio in programma il 29 ottobre alle 12 e 30 allo Stadio Vigorito per agevolare la fase di deflusso veicolare a partire da 15 minuti prima della fine della cara e sino a cessate esigenze e attiva il senzonico di circolazione sino all'incrocio con via Vitelli in direzione Rione Libertà e dalla Rotonda degli Atleti in direzione della strada statale 7 Appia. Chiuse al traffico invece lungo sabato Matarazzo all'altezza dell'incrocio con via Columbro, via Rivellini all'altezza dei Palatedeschi, via Dotto delle Streghe nel tratto compreso tra via Benitorossi e lo svincolo con trada Piano Morra. Inoltre per facilitare la sosta dei veicoli dei tifosi sia locali che ospiti sono predisposti una serie di aree arterie da poter utilizzare. Ed infine a Napoli, sempre per domenica 29 ottobre in occasione dell'incontro di calcio Napoli-Sassuolo in programma alle 15 allo Stadio San Paolo, dalle 13 è istituito il senso unico di circolazione nel tratto di via Terracina compreso tra via Caravaggio e via Nuova Cinzia. Chiuse al traffico invece via Gian Battista Marino, via Claudio, via Guglielmo Marconi e via Pietro Jacopo De Gennaro. E con questo è tutto, grazie per l'attenzione. Grazie a tutti.